Tra l'altro, rendendo scherzato, mi rimane un'ora e un quarto Cioè... Un'ora e un quarto? Eh, sì Eh, madonna, quante le ho usate! No, vabbè Eh, la porto sempre in giro Eh, ma così tanto, cazzo Eh, ma così tanto, cazzo Eh, c'è un tipo dietro Oh, che caso Eh, tu chi sei? Boh, non mi ricorda nessuno È Forlo È Forlo Ah, sei intrigante Fantastico Splendita battaglia, Forlo Grazie È sempre un piacere Tipo, droppa la chiave Dimmi che si rivela utile Forlo No No, ok Aiuto, aiuto Fa cosa Oh, vuoi incendiare tutto Guarda Ma seriamente Eh, guarda Forlo, non ancora Ah, è una roba Vai Ok E Che cosa ci stai dimostrando Accendendo queste torce Evocando Forlo Oh, attenzione Aha Ciao Questo mi sembra che la falce Eh Madonna, che memoria che c'ho Eh? Cacciato male, mi sa Cacciato male, mi sa Noo Sì, son tornato anch'io nel mio mondo Buongiorno Ah Eh Ah, bravo Esatto, ora mi venuto in mente Sì 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 No, Chris, io non... Sì Sì, esatto Anch'io Ma che cazzo sta facendo quella Non sta collaborando, diciamo Minchia Primo tentativo Mamma Che stanza brutta Che cosa... Sì Veramente Il simbolino Aspettami Sì No, merda Nooo Nooo Perchè Nooo Non è l'emoto Ci può stare però Nooo Eh sì, ci può stare Sembra che ho anche la testa mostrata Eh, sta Ah, è vero, è vero, è vero Tu ha Mamma mia Combone Infatti è un robot Un cazzo Avete notato che le... le lucertole danno una anima Immagino... Cosa? Luet 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 È un portone Ah, è Luet È un signor portone Uh, sì Shit Ah, ok Oh, guardalo Cosa succede? Ruchy È... Turchy Sì Esatto È una cosa strana, tipo Mmm... sta... Cosa stai cercando È in là Ah, ciao Ciao Buongiorno Come stai? Sapendo cosa da mangiare, tipo Sì, c'ho una a fare mettere la mano Ok No No Sì Pensavate, posso finir... Anche questo qua mi fa il cetone Dov'è l'amico portone? Aspetta Veramente, dov'è? Sei incastrato? Mi ha interesso il portone Mi ha interesso il portone No, sei bloccato Ostia! Cos'è successo? Forlone, bastardo Mi ha ucciso, minchia Da di... No No, mi ha fatto blackstab Ma quando? Scappa scappa È finito Non ero girato da quella parte mai Non so per quale culo non mi ha fatto Forlone, lager... No, non so Lager... Si dice Sembra più una roba tedeschi Lager Venga giù qua, richiamo... Eh, turchi venga giù qua Arrivo, arrivo Non volevo andare avanti per quello Che cosa ho fatto? No, no, mi sono avvicinato io Porca troia Io ho messo il segno E ne sono troppo avanti, turchi Oh Eh E adesso abbiamo la chiave Chissà cosa ci aspetta Mi l'ho dimenticato del Mercedes Oh, spara gli labioscuri sto qua Ah, anch'io ce l'ho quell'elmetto se vuoi Aumenta giù l'intelligenza Oh, vaffanculo Avete attivato cosa? Eh, sì Sì Ah, il Mimica avete attivato Sì Beh, non male Abbiamo scoperto che è un Mimica Esatto Esatto Oh, fuck Vabbè, dai Una lancia nel fulmine te la merita Allora ti meriti anche... Ti meriti il mio arco Non forno nell'altro Sembra una scena del signor degli anelli Ah, hai il mio arco Hai le mie lance del fulmine E bla 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 Ma la cosa più bella Se volete stare qua un attimo Guardate in giù Verso in giù, là In giù di là Verso il corridoio Ok Aiuto Ho paura un sacco Anch'io Ok Oh, shit Guardate dietro Mimic? Ah No, Luet Visto che c'era un modo Luet, dove scappa? Dove vai, Luet? No Non ti ha troppato tipo l'elmo a forma di Mimic? Di fulmine No, non ne hai fatto Ma dai Cazzo Ne vaffan... Nooo Muori, stronzo Mi ha fatto tutto E' l'ultimo cazzo di studiato di ciclovato Quindi Già Che merda No, 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 no Non volevo Ok Ecco, hai rovinato il mio Praise the Sun all'ombra Eh, va bene Io ho rovinato il tuo, giustamente Mi prenderò come scusa per entrare a 40 Una roba simpatica Se lancio la magia senza... Senza binocolo passa Se no, non passa Che storia Geyser dell'anima Oh, cosa? Veramente? Geyser dell'anima? Oh, shit Ostia Allora è utile quella zona Ci vado tipo subito appena torno Figlio amooo Ma che cazzo Oh Ma questa stanza è tipo il paese dei balocchi Chiaramente io Olè Vabbè Come cazzo hai fatto? Eh, sì Giustamente un po' Guarda le bottiglie Oh, attenzio Ah, che maestrino Come mai hanno messo così tanto dettaglio su queste bottiglie delle cazze? Eh, infatti Beh, beh, sì Circa dettaglio Adesso sono rifluttuanti da me almeno Mmm, sono perso Mmm, sono perso Ah, che cazzo No Oh, fuck Ma che bello Cristo Peccato Scott, scotta Uso l'arco Ah no Ecco, merito del mio veleno Ovviamente Ottimo No, non lo so in realtà Forse Ti ho fatto non usare il dito praticamente Sembrava strano Beh, giustamente si chiama Trono del desiderio sta zona Potrebbe essere abbastanza Sì Confusiva Eh, però ce l'ha neppi, eh Eh, eh Cazzo No, no Non ci sono ancora arrivato Non ci sono ancora arrivato Ma che cosa Cioè Stavo correndo sgargiullo No? La telecamera impazzisce Mi gira di 90 gradi Cado nel niente No Ma che cosa Che cosa Ma che cosa Ma forca Ancora Ma che cosa Cos'è, ho il mouse Ah, mi sa che ho tirato via Ho tirato il mouse Non lo so Porta si rivede Che palle Ogni volta No Si ma non serve l'anello Che si riapre da sua donna Si però ogni volta che tu muori in quel box Si Merda Ah, si Ok Ah 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 Ok, ok Si, si Ora mi ricordo qualcosa Beh, beh Non li batto adesso Eh, puoi usare l'osso se vuoi Eh, son caduto in un buco che non ho visto nell'arena Ah Ah Si apriti porta Punto debole morte Eh, si È diventato Kingdom Hearts Ah Ah Ma la spada è andata Ma la spada è andata